Ma col PD come la mettiamo? Noi vogliamo solo le commissioni per iniziare a lavorare. Ma se non c'è governo come si fa a commissione? C'è un governo. No, c'è Monti in carica. C'è Monti in carica. Quindi siete per Monti, siete montiani. Allora siete con Monti. No, 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 le leggi le facciamo. Assolutamente. E allora però stanno tentando di fare un governo anche nuova. Questa è la voce del popolo. Attenzione ora, ragazzi. Siamo i pervalenti. Ciao, di cosa avete parlato? Quali sono stati i temi? Scusa, posso? Scusate, scusate. Quali sono? Posso sapere di che cosa avete parlato? Non parlate. Scusi, posso con lei? Di quali sono stati i temi? Con me sì perché non sono mai letto. Ah, bene, bene. Lei è parlamentare? No. Non è parlamentare. Lei è parlamentare? No, sono nella sua collaboratrice. Ah, bene, quindi lei è parlamentare. Io sono la sua operatrice. Senta, ma mi spiega di che cosa avete parlato? Che siete riuniti oggi in tutta questa segretezza. Segretezza? Come vede ci siete voi. Abbiamo dovuto seguire il pullman. Abbiamo dovuto seguire il pullman. Però quali sono stati i temi? Adesso, adesso. Quali sono stati i temi? Presidente della Repubblica, alleanza col PD. Di cosa avete parlato? Facciamo una controintervista. Sì. Una controintervista. La controintervista. Alguia Argus, controintervista. Ma no, no, ma no. Cosa vi sareste aspettati da questo incontro? No, io vorrei capire. No, no, facciamo noi le domande. Non facciamo noi. Cosa vi sareste aspettati da questo incontro? No, no, no. Però scusate, scusate, ma secondo voi non è lecito che io vi chieda di cosa avete parlato? Di cosa vi aspettate da questo incontro? A capire di cosa avete parlato. Avete parlato? Non lo so, lo chiedo io a voi. Secondo voi cosa c'era di... Grazie. Grazie.